Innanzitutto grazie all'Overone Fiere che ormai da 4-5 anni abbiamo visto connubio e come abbiamo detto parliamo la stessa lingua, cerchiamo la qualità e cerchiamo di trasmettere questa qualità. La Consociazione Italiana Tappezzieri e Redatori, per chi non la conosce, è un gruppo di tapezzieri fondato da tapezzieri quasi 50 anni fa nel 1975 a Genova. Attualmente sta subendo un passaggio generazionale, sono arrivato io come presidente tra virgolette giovane, mi definiscono giovane anche se non lo sono, il nostro stop è quello di promuovere e divulgare l'arte della tapezzeria facendo incontrare gli artigiani tra di loro perché si scambino saperi e poi trasmettere il nostro mestiere al pubblico perché vogliamo tra virgolette togliere questa polvere che c'è dietro questo mestiere che sembra un mestiere vecchio, anzi invece non lo è perché la tapezzeria abbraccia un campo immenso perché si parte dall'aeronautica per arrivare alla tenda di casa, tutto è tapezzeria, compreso il materasso, compreso la patrona, compreso il divano. Nella nostra associazione ci sono 140 soci e ognuno con la sua particolarità. Quest'anno veramente sono stati coinvolti tutti e ci sarà una grossa presenza perché arriveranno dalla Sicilia fino a Bozzano, avremo di volta in volta giorno per giorno dei maestri tapezzieri lì allo stand che racconteranno la loro storia, che racconteranno il loro mestiere, che si incontreranno tra loro per parlare. Infatti lo stand quest'anno l'abbiamo pensato anche molto provocatorio, molto innovativo perché sarà uno stand pieno di colore, con delle cose particolari anche per attrarre i ragazzi, per far vedere che la tapezzeria non è solo riparare i buchi nelle sedi ma si può creare con il tessuto e partiremo da un paravento che nasce da un quadro che è stato creato con dei pezzi di tessuto colorantissimo e arriveremo fino a dei cuscini in sughero. Abbiamo trovato, siamo riusciti anche a cucire il sughero, quindi visto che è la festa del legno avremo delle provocazioni, quindi vi invito a fare un giro e a venerci a trovare. E altra cosa che ne andiamo orgogliosi per la prima volta, siccome è appena uscito a maggio, si è conclusa la ricerca che avevamo iniziato quasi due anni fa con l'Università di Urbino di Zia, l'Istituto Superiore delle Arti Grafiche. Quattro ragazzi e un docente hanno collaborato con noi per quasi due anni per fare una ricerca sulla figura del tapezziere, proprio la figura, l'uomo del tapezziere. Ed è nato questo che è la prima bozza di questo libro fatto con gli occhi di quattro ragazzi molto particolari e hanno creato e hanno raccontato cos'è il tapezziere secondo loro. Lo presenteremo domenica, la prima domenica da Redamont per la prima volta e poi il nostro obiettivo è di riuscire a portare in stampa questo che è non solo un libro fotografico ma ci sono interviste, ci sono racconti raccolti in quest'anno e mezzo e hanno lavorato logicamente molto di grafica, che è un libro molto particolare e ci sono le storie dei nostri tapezzieri dentro questo libro. Adesso lo stiamo facendo vedere e poi potremo arrivare per il prossimo Redamont con la pubblicazione vera e propria, questa è proprio l'anteprima perché è proprio la bozza ancora di esame di questo libro molto particolare, creato con un tessuto all'esterno con una carta da toccare perché è tutta una sensazione.